Una volta in una poesia. Le poesie, anche quando sono narrative, non somigliano alle storie. Tutte le storie parlano di battaglie, di un tipo o dell'altro, che terminano con una vittoria o una sconfitta. Tutto procede verso la conclusione, quando si saprà come è andata a finire. Le poesie, incuranti degli esiti, attraversano i campi di battaglia, occupandosi dei feriti, ascoltando i monologhi selvaggi di chi trionfa o di chi ha paura. Portano una sorta di pace, senza anestetizzare o dare facili rassicurazioni, ma riconoscendo e promettendo che quel che è stato vissuto non può svanire, come se non fosse mai avvenuto. Non è, però, la promessa di un monumento. Chi ancora su un campo di battaglia vuole monumenti? La promessa è che la lingua ha riconosciuto, ha dato rifugio all'esperienza che reclamava, che gridava. Le poesie sono più simili alle preghiere che alle storie, ma nella poesia non c'è nessuno dietro alla lingua con cui si prega. È la lingua stessa che deve ascoltare e riconoscere. Per il poeta religioso la parola è il primo attributo di Dio. In tutta la poesia le parole sono una presenza prima di essere un mezzo di comunicazione. Eppure la poesia usa le stesse parole e più o meno la stessa sintassi, per esempio, del rapporto di fine anno di una società multinazionale. Multinazionali che, per il loro profitto, preparano alcuni dei più terribili terreni di scontro del mondo moderno. Come fa dunque la poesia a trasformare la lingua al punto che, invece di limitarsi a trasmettere informazioni, essa ascolta e promette e svolge il ruolo di un Dio? Che una poesia possa utilizzare le stesse parole di un rapporto aziendale non ha più significato del fatto che un faro e la cella di una prigione possano essere costruiti con le pietre provenienti dalla stessa cava, legate dalla stessa malta. Tutto dipende dalla relazione tra le parole. E la somma totale di tutte queste possibili relazioni dipende dal modo in cui lo scrittore si confronta con la lingua, non come lessico, non come sintassi e neppure come struttura, ma come un principio e una presenza. Il poeta pone la lingua oltre la portata del tempo. O, più precisamente, il poeta si accosta alla lingua come se fosse un luogo, un punto di incontro, dove il tempo non ha finalità, dove il tempo stesso è incluso e compreso. Se a volte la poesia parla della propria immortalità, la pretesa è ben più ambiziosa di quella del genio di un particolare poeta, in una particolare storia culturale. L'immortalità qui andrebbe distinta dalla fama postuma. La poesia può parlare di immortalità perché si abbandona al linguaggio, persuasa che esso accolga ogni esperienza passata, presente, futura. Parlare della promessa della poesia sarebbe fuorviante, perché una promessa proietta verso il futuro, ed è precisamente la coesistenza di futuro, presente e passato che la poesia propone. Una promessa che vale tanto per il presente e il passato quanto per il futuro è meglio chiamarla garanzia.